ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare arpago sinergico cosa srl ultimo aggiornamento 4 marzo 2022 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso avvertenze ingredienti apporto nutrienti immagine prodotto a cosa serve arpago sinergico è un integratore appartenente alla categoria degli integratori per il benessere delle cartilagini delle articolazioni e delle ossa è commercializzato in italia dall'azienda cosa srl informazioni commerciali titolare cosa srl concessionario cosa srl categoria di appartenenza integratori per il benessere delle cartilagini delle articolazioni e delle ossa forma farmaceutica soluzione confezioni arpago sinergico integratore voce 100 ml indicazioni effetti fisiologici artiglio del diavolo radice o il maria sommità un caria corteccia salice bianco corteccia funzionalità articolare salice bianco corteccia contrasto di stati di tensione localizzati modalità d'uso 50 gocce 3 volte al giorno prima dei pasti avvertenze salice e olmaria contengono salicilati se si stanno assumendo farmaci anti aggreganti o anticoagulanti si consiglia di sentire il parere del medico si sconsiglia l'uso per bambini e adolescenti il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata seguendo uno stile di vita sano non eccedere le dosi giornaliere raccomandate tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni ingredienti artiglio del diavolo arpago fitum procumbens book dopo cristo radice estratto fluido o il maria filipendula un maria l maxim sommità estratto fluido equiseto equisetum arvense l parti aerea estratto fluido un caria un cariatumentosa bild ex scult dopo cristo corteccia estratto fluido ribes nero ribes nigrum l gemme macerato glicerico rosa canina rosa canina l gemme macerato glicerico salice bianco salix alba l corteccia estratto fluido altri ingredienti fruttosio apporto nutrienti ingredienti per 150 gocce artiglio del diavolo arpago fitum procumbens book dopo cristo radice estratto fluido una e 58 g o il maria filipendula un maria l maxim sommità estratto fluido una e 31 g equiseto equisetum arvense l parti aerea estratto fluido 0 e 39 g un caria un cariatur mentosa bild ex scult dopo cristo corteccia estratto fluido 0 e 39 g ribes nero ribes nigrum l gemme macerato glicerico 0 e 39 g rosa canina rosa canina l gemme macerato glicerico 0 e 39 g salice bianco salix alba l corteccia estratto fluido 0 e 26 g fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato diciamo qui Grazie a tutti.